Il prodotto viene pensato, realizzato dal punto di vista, quindi studiato e poi costruito e nell'ingramaggio di costruire le cose, farle sempre meglio, ci vuole della produzione. Stiamo saldando componenti di piaccia. Buon lavoro. Grazie. Oggi siamo arrivati ad avere un miliardo e mezzo di attivo come banca e ci rispecchiamo in un valore, oltre che per quello che facciamo, anche di come lo facciamo, è una finanza sobria, diciamo così, però sostenibile. Anteponiamo alle risorse e alle opportunità, la parola non problema, ma satelicità, forse una vera e strategica. Il nostro piccolo stiamo investendo sempre nella sicurezza dei passeggeri, perché noterai che gli incidenti sulle giostre, ogni anno vanno un miliardo e mezzo di persone, si contano sulle dite di una mano. Può venire anche Firenze. Quello volentieri, non conto più nulla, ma consiglio come altro. Hai stato invitato a Matteo Renzi per due motivi. No, tre. Tu non mi hai simpatico. Il secondo motivo è perché avevo bisogno di essere apposato, oltre che da Matteo Renzi ai parlamentari attuali, per il campo. Per noi è una cosa importantissima e grande. Queste sono sale vuote, ma non perché siano vuote, perché stiamo allestendo quelle nuove. Noi abbiamo qui voglia di lavorare e di trasmettere vita, conoscenza. Grazie a voi per quello che avete fatto qua, grazie per quello che farete, ma soprattutto grazie per quello che siete.